L'intervento si svolge in sedazione, anche se si tratta comunque di una leggera sedazione. A risveglio la paziente è possibile che abbia una sensazione fastidiosa molto simile a quella del dolore mestruale e se la donna sopportasse male questa sensazione che in genere dura per circa un'ora, si somministra un semplice antidolorifico e il fastidio si risolve in breve. Ad ogni modo la paziente rimane in clinica per tutto il tempo necessario, un tempo variabile dalle 2 alle 3 ore, dopo il quale viene dimessa nel momento in cui sia in perfette condizioni fisiche. È possibile che dopo il prelievo degli ovociti permanga una lieve perdita di sangue che può durare per un paio di giorni e dopodiché tutto si risolve. Grazie. 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 Grazie.